Adi, associazione per il disegno industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo. Andrea, partiamo con questa nostra breve conversazione raccontando dal tuo punto di vista che cosa significa far parte di un'associazione come Adi, che da tantissimi anni promuove la cultura del progetto del design italiano. È una cosa molto importante e fa bene soprattutto anche alle aziende, perché specialmente chi fa la cultura del design e chi crede nella propria azienda, far parte di un'associazione è anche una tutela progettuale, perché purtroppo ultimamente quando noi presentiamo progetti e lo andiamo anche a esportare, ci ritroviamo tante volte anche delle contraffazioni incredibili, quindi far parte di un'associazione in cui porti i tuoi progetti, ti metti in competizione anche con gli altri, e quindi far bene a tutte le aziende, affianché direi che tantissime aziende dovrebbero far parte di questa associazione, perché è unica ed è veramente riconoscibile a livello internazionale. Una specie di compagnia di compagni di viaggio dovrebbe essere, come si fa a mettere da parte un po' l'individualità di percorsi, voglio dire la tua azienda la conosciamo da tanti anni, ha una linea di comunicazione molto precisa, come si fa a mettersi un po' da parte e diventare dei veri compagni di viaggio portando delle istanze ai tavoli, oppure come hai detto condividendo alcuni spunti che arrivano da varie aziende, a volte anche dello stesso settore? Beh, anzitutto ci vorrebbe, come dico tante volte, credere nel rapporto fra aziende, difficilmente le aziende italiane mi trovo tanta difficoltà, crede anche quando vado a esportare determinati concetti all'estero, trovo un muro di questa situazione, invece diventare compagni dove ci sono più aziende, dove insieme possiamo mettere un know-how importante, un concetto di rappresentativa aziendale diventa fondamentale, quindi l'associazione è un punto di incontro, veramente sembra quasi un bari, quando vado a frequentare anche l'associazione si va anche a scegliere i progetti, diventa anche un punto di incontro per scambiare le opinioni e diventa essenziale far parte di questo gruppo per scambiare anche opinioni. Veniamo a noi, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo fatto anche dei format particolari, delle dirette web, insomma tu sei uno sulla comunicazione molto attente, da sempre lavori non solo sul design dei progetti, ma anche sul come raccontarli e questo a sua volta è un progetto. Volevo chiederti qualcosa su questo progetto di salone, siamo a Milano, la città che in questi ultimi anni è all'onore delle cronache per essere una delle città più internazionali, italiane se non la più internazionale e comunque per essere al centro anche da parte dell'estero dell'attenzione. Questo salone è un po' cambiato, il discorso del contrat che è entrato in maniera importante con le note vicissitudini che conosciamo, però è comunque uno specchio dei tempi, cioè andare con un progetto totale, fare cartello e andare a portare un progetto che è per alcune parti un po' standardizzato ma per le altre sempre molto personalizzato. Il contrat è un po' questo, è un po' difficile da affrontare, però io dico finalmente ci siamo arrivati a sistematizzarlo. No, finalmente posso dire che Milano era conosciuta come una città di moda e adesso andando a giro per il mondo mi rendo conto che Milano è anche una città del design e quindi sono stati bravi come salone a far sì che sia diventato internazionale. Bisogna essere bravi noi poi come aziende, né affrontare questi progetti come quest'anno che si sono messi in ballo in discussione la fiera nel fare questi stessi progetti, che posso dire che all'inizio avevo delle titubanze, invece sta uscendo una qualità molto forte delle aziende, un prodotto unico e creare nuove sinergie, nuove sinergie anche con il settore contact, è fondamentale perché alla fine non importa andare tante volte a seguire gli studi, cioè basta anche riprenderla, anche riceverla all'interno del nostro spazio, quindi uno spazio fondamentale è lavorare non sul prodotto ma anche sulla comunicazione. Io dico sempre che oggi come oggi, oltre al prodotto, la grossa fetta la fa la comunicazione, bisogna essere bravi a comunicare, far sì, ma non comunicare con una foto o con qualsiasi altra cosa, ma comunicare con il servizio, la qualità, l'eleganza e lo stile che un'azienda in questi anni deve saper poi raccogliere in un momento in cui ti metti in una discussione su questo progetto, S-Project, dove non presenti un prodotto commerciale ma diventano dell'installazione, installazione a tutti gli effetti. Ti farei un'ultima domanda su una tua personale richiesta all'associazione, ovvio c'è la tutela, ci sono i riconoscimenti, ci sono le attività che si fanno in comunicazione, ma se tu dovessi chiedere ai tuoi compagni di viaggio, ma all'associazione Alladi, che cosa deve fare nei prossimi mesi, non dico anni, nei prossimi mesi perché ormai si ragiona in tempi molto veloci, che cosa ti aspetteresti? Senti, io dovrebbero fare un'attenzione maggiore sui progetti, perché a livello di azienda a volte quando si parla di associazione ci sono un po' dei mogugni, perché l'associazione Alladi alla fine è un'associazione che deve tutelare le aziende, tutelare il design, il disegno industriale, però a volte deve anche portare avanti dei progetti che non sono poi in linea con le cose, con i premi che hanno dato, quindi io sto cercando più professionalità. Adi, associazione per il disegno industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo.